La Chiesa è l'Assemblea dei Santi nella quale si insegna l'Evangelo nella sua purezza e si amministrano correttamente i sacramenti e per la vera unità della Chiesa è sufficiente l'accordo sull'insegnamento dell'Evangelo e sull'amministrazione dei sacramenti. Non è invece necessario che siano ovunque uniformi le tradizioni istituite dagli uomini, cioè i riti o le cerimonie, come dice Paolo, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e padre di tutti.